Dunque presentare un film al Milano Design Film Festival è sicuramente l'esperienza di presentare i miei film in una sala molto bella, quando in realtà di solito presento i film in galleria e quindi è un'esperienza molto diversa anche di fruizione e soprattutto avere un rapporto anche inaspettato con il mondo del design, nonostante comunque i soggetti dei miei film siano oggetti, cose e ambienti dall'altra parte, però è per me nuovo venire inserita in questa cornice. Mi piace molto che sia stata inserita una sezione curata da un curatore d'arte specializzato in immagini in movimento e che quindi ci sia questa visione trasversale rispetto al mondo del design da una parte e al mondo dell'arte contemporanea dall'altra e che si sia trovato questo tradunion.